Siamo qua con Abdelad Tiar, 2 ore e 17 minuti e 15 secondi, secondo classificato in questa quattordicesima Verona Marathon, come è andata Abdel? La gara è andata bene, grazie per l'organizzazione, per tutta questa gente che è stata durante il percorso, vogliamo parlare della gara, dopo la gara che ho fatto, la maratona di Venezia e la mezza maratona di Austa, ho fatto anche questa e sono contento per questo risultato e sono contento anche per il tempo che ho fatto, 2,17,15, sto bene, spero che faccio meglio sulle prossime gare. Solo 15 secondi di differenza dal vincitore della gara, non c'era proprio verso di andare a prenderlo? Io ho provato più o meno dal 28esimo chilometro, ma quel distacco è stato lì, non sono riuscito a togliere quel matchup di secondi, quindi quando non ci hai più, non ci hai più, quella è il massimo. Grazie.